Buongiorno dallo Junior a Cicastello Oggi prima giornata di play-out decisivo per rimanere in Serie B Ovviamente come tutta la stagione partiamo sfavoriti Però ce la metteremo tutta anche quest'anno per non retrocedere Chi c'è in campo? Allora in campo alla sinistra il forte Alessio Sirillo in alto in Germania Ma ormai avolese doc La Dania Danilo doppista della squadra La Dania Danilo doppista della squadra Che ride ma è sempre incazzato perché il maestro Rizzo non lo fa giocare mai Passiamo a destra Esatto A destra abbiamo il volto più bello d'Italia ormai ex giocatore Giuseppe Ricciardi Che ci fa la cortesia ogni domenica mattina di venire qui a giocare Con la Collanadora Con la Collanadora E tutto tranne che un tenista Sempre a destra Sempre a destra L'altro vivaio Orazio Giuffrida ha detto la mula La mula perché è uno scecco di uno scecco numero uno Che in questo momento però sembra essere in formissimo Quindi confidiamo in lui per portare almeno un punto oggi Va bene quindi sopra c'è la serie B e poi invece c'è Poi invece c'è la D1 Com'è D1 Com'è D1 Ah D3 Scusa scusa Ora per arrivare a uno dobbiamo fare bella scalata Certo Comunque il livello è molto alto al livello della serie B Sì 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 Abbiamo visto un paio di coppia In questo momento in campo c'è il leone Poi più tardi c'è il pavone E poi c'è il... Ah ci ti amo Coglione Spara la riva Va bene In questo momento c'è in campo Massimo Leo Massimo Leo Che contro Pietro va da lì Che io non vedo bene Eccolo Però Benissimo Eccolo Grazie a tutti. Grazie. 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Grazie. 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 Grazie, grazie. Ah, non devi cambiare lato con gli occhi. 30 minuti. 30 minuti. 30 minuti. 30 minuti. 30 minuti.